benvenuti al mio canale in cui si parla principalmente di elettronica digitale e programmazione e con esperimenti facilmente replicabili a casa con materiali e attrezzatura semplice ed economica in questo video sospendo la serie sullo z80 su cui sto comunque lavorando per dei prossimi video e vediamo una tecnica simpatica chiamata charlie plexing per controllare l'accensione di tanti led usando il minor numero possibile di pin di un microcontrollore come arduino sappiamo che per accendere un led si deve collegare l'anodo ad un potenziale elettrico più alto di quello collegato al catodo e se si inverte la polarità di anodo e catodo il led rimane spento collegando un altro led in antiparallelo al primo cioè l'anodo del secondo led con il catodo del primo led e il catodo del secondo led con l'anodo del primo led cambiando la polarità dell'alimentazione possiamo accendere il primo o il secondo led lasciando almeno uno dei due fili scollegati o collegando entrambi alla stessa polarità entrambi i led restano spenti lo vediamo velocemente anche in una breadboard prelevando 5 volt da un comune alimentatore per ricaricare cellulari o piccoli dispositivi elettronici e collegando i due fili di alimentazione in un verso e nel verso opposto in breve in questo modo possiamo accendere separatamente due led usando due soli fili ma fin qui è abbastanza facile da capire possiamo affiancare altri due led e usare la stessa tecnica accendendo quindi separatamente quattro led con quattro fili e anche questo è banale collegando uno dei fili del primo sistema di led con uno dei fili del secondo sistema di led otteniamo di accendere separatamente ciascuno dei quattro led usando solo tre fili ovviamente due fili saranno alimentati e il terzo filo rimarrà scollegato possiamo avvicinare un'altra coppia di led e collegando uno dei fili di questi due led al filo connesso a tutti gli altri quattro led si può accendere uno dei sei led tramite solo quattro fili in pratica si possono aggiungere coppie di led aggiungendo un solo filo al sistema ovvero 8 led con 5 fili 10 led con 6 fili 12 led con 7 fili e così via molto facile da capire ma si può fare di meglio invece di collegare tante coppie di led in antiparallelo ad un centro stella in pratica un filo comune a tutte le coppie proviamo a cambiare circuito trasformandolo in qualcosa che somigli a un triangolo proviamo a collegare due fili all'alimentazione dei 5 volt adesso vediamo che metà dei led sono accesi in particolare un led è ben acceso gli altri due hanno una luminosità leggermente più bassa ridisegnando il circuito e togliendo i led polarizzati in modo inverso possiamo vedere che in realtà ci sono due circuiti collegati all'alimentazione un circuito collega ai 5 volt un led e una resistenza in serie mentre nell'altro circuito ci sono due led e due resistenze in serie misurando la tensione dei led possiamo vedere che nel circuito con un solo led ai capi del led troviamo circa 1,9 volt mentre i capi dei led dell'altro ramo troviamo leggermente di meno circa un decimo di volt in meno ovvero 1,8 volt tramite le resistenze da mille ohm possiamo risalire alla corrente che è circa 3,2 milliampere nel led da solo e 75 centesimi di milliampere negli altri due led la corrente che passa per i due led in serie è circa un quarto ma è sufficiente per accendere decentemente questi led occorre quindi fare una piccola modifica al circuito ad esempio spostare le resistenze all'esterno del triangolo e dimezzarne il valore con questo collegamento ai capi del circuito con un solo led si ottiene la caduta di tensione della polarizzazione diretta nel nostro caso circa 1,9 volt la stessa tensione si ottiene anche ai capi della serie degli altri due led ma non è sufficiente per portarli in conduzione e quindi farli accendere se i led sono tutti uguali quindi si accende solo un led quello che si trova da solo nel ramo alimentato il valore delle resistenze va quindi dimezzato perché con questa modifica la corrente che accende il led interessato deve attraversare due resistenze proviamo questo circuito su una breadboard i fili arancioni costituiscono il triangolo dei led gli altri tre fili sono quelli di controllo collegando il positivo di alimentazione al filo blu e il negativo al filo verde si accende il led in alto a sinistra spostando il positivo sul filo giallo si accende il led alto centrale e spostando il negativo sul filo blu si accende il led in alto a destra continuando con questi scambi riusciamo ad accendere anche il led in basso a sinistra poi quello in basso al centro e quello in basso a destra quindi con tre fili possiamo controllare sei led con quattro fili i led controllabili diventano 12 lo schema comincia a diventare intricato in pratica ad ognuno dei quattro fili di controllo vengono collegati due led in antiparallelo verso gli altri tre fili di controllo un altro schema potrebbe essere questo dove i led non sono più in ordine ma le connessioni sono più semplici da seguire alimentando quindi due di questi quattro fili e lasciando scollegati due fili possiamo accendere uno dei led se però il led è interrotto la corrente può comunque passare per altri due percorsi ciascuno comprendente due led in serie e quindi se si provasse ad accendere il led guasto si vedrebbero accesi in realtà molti altri led proviamo a vedere questo in una breadboard costruire il circuito con sei led gestiti tramite tre fili è abbastanza veloce costruire il circuito con 12 led gestiti tramite quattro fili richiede invece alcuni minuti di pazienza ma più probabilmente ci vorranno molti minuti e molta pazienza per questo motivo lo mostro già pronto alimentando due resistenze si accende un led e facendo le varie combinazioni positivo e negativo su queste quattro resistenze riusciremo ad accendere una alla volta tutti i 12 led vediamo come gestire questi 12 led con arduino servono quattro pin digitali per comodità usiamo i pin 6 5 4 e 3 pianifichiamo prima lo sketch in questo video ne scriveremo uno molto semplice per ottenere un risultato simpatico ma con poco sforzo proviamo ad accendere i 12 led in sequenza ordinata per accendere un led occorre individuare il pin di arduino collegato all'anodo che va impostato in modalità output e a livello logico alto e individuare il pin di arduino collegato al catodo che va impostato in modalità output e a livello logico basso gli altri due pin vanno lasciati scollegati in linguaggio elettronico vanno impostati in alta impedenza in linguaggio arduino vanno impostati a semplice input non è possibile accendere una coppia qualsiasi di led anche se in alcuni casi si potrebbe accendere più led se questi hanno tutti in comune lo stesso anodo o lo stesso catodo per semplicità quindi dopo aver acceso il led inseriamo un ritardo di una frazione di secondo e lo spegniamo impostando a input i pin usati per accenderlo per rendere più semplice lo sketch meglio scrivere una funzione che usa come parametro il led da accendere la quale imposta i pin attende un tempo stabilito e poi spegne il led per individuare i pin di anodo e catodo dei vari led non c'è una formula matematica semplice e diretta salvo che i vari led non siano stati posizionati in un ordine particolare cosa che però non è stata fatta in questo circuito occorre quindi una tabella per individuare anodo e catodo o più semplicemente una coppia di array in questi array ci sarà quindi il pin di arduino da usare per attivare anodo e catodo ma invece di usare i pin diretti usiamo una costante del compilatore in modo da adattare facilmente lo sketch sia per arduino sia per atti tiny cominciamo quindi col chiamare i quattro pin con una lettera dell'alfabeto usando quattro direttive define creiamo i due array per associare ad ogni led i pin di anodo e catodo per velocità di scrittura li chiamiamo h e l ovvero l'elenco degli anodi da impostare a livello logico alto e l'elenco dei catodi da impostare a livello logico basso l'indice di questi array è il led da accendere il primo led ha l'anodo sul pin chiamato a e il catodo sul pin chiamato b e mettiamo queste etichette come primo valore dei due array il secondo led usa gli stessi pin ma invertiti il terzo led all'anodo sul pin a e il catodo sul pin c e questi pin invertiti sono usati dal quarto led conteniamo a compilare questi due array con i restanti otto led scriviamo adesso la funzione che accende e spegne il led come parametro usiamo un valore intero chiamato n all'interno della funzione occorre attivare i pin di anodo e catodo ovvero impostarli in modalità output e impostare a livello logico alto l'anodo e a livello logico basso il catodo i pin li possiamo ottenere dai due array h e l creati poco fa inseriamo un ritardo di 200 millisecondi adesso rimettiamo in modalità input i pin usati per anodo e catodo nella funzione setup non c'è nulla da fare quindi può rimanere vuota nella funzione loop creiamo due cicli for il primo ciclo conta da 0 a 10 e accende il relativo led il secondo ciclo conta da 11 a 1 e accende il relativo led sketch completato compiliamo e carichiamo in arduino 1 collegando le resistenze ai pin 6 5 4 e 3 di arduino vediamo quindi che i vari led si accendono non occorrerebbe nemmeno il cavo usb connesso ad arduino basta solo fornire alimentazione ad arduino proviamo a sostituire l'arduino con un microcontrollore attitaini 85 la modifica dello sketch è semplice basta cambiare i pin digitali definiti all'inizio dello sketch usando ad esempio i pin 3 2 1 e 0 carichiamo lo sketch nella attitaini 85 il circuito ovviamente funziona ancora ma è diventato molto più leggero il microcontrollore attitaini 85 ha 5 pin facilmente utilizzabili e con 5 pin si potrebbero controllare fino a 20 led in modalità charlie plexing qualche mese fa avevo provato anche a realizzare un piccolo pcb se interessa ci faccio un video di approfondimento con charlie plexing i led controllati aumentano con una legge quadratica rispetto al numero di pin in pratica con 5 pin si controllano 20 led con 6 pin si controllano 30 led con 8 pin si controllano 56 led e con 10 pin si controllano ben 90 led con tanti led così diventa difficile disporli e collegarli tra loro ma ci sono delle tecniche furbe anche per questo se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere e se avete suggerimenti o proposte scriveteli nei commenti grazie a tutti per la visione ciao e al prossimo video